Con Venere basta un clic. Un braccio destro per il lavoro. Una cosa molto molto utile. Semplice, facile. Serio, ad hoc per il nostro settore. Non posso immaginarla oggi sempre. È un programma completo. Parlo a noi sarebbe impossibile. Ti dà veramente tutto. Tutto. Venere significa organizzazione. E poi ho incontrato Venere. È molto molto utile e comodo. Con Venere noi ci troviamo molto molto bene. Noi quando abbiamo aperto la prima cosa che abbiamo pensato comunque oltre a subito ad avere un programma, un gestionale. Abbiamo il software di Venere da ormai due anni. Ho scelto Venere e ho capito che era un gestionale di tutto rispetto. Devo dire che ce l'ho da un anno e è cambiato molto nel centro. Grazie a Venere perché acquistando questo programma due anni fa stiamo veramente riducendo molto il lavoro manuale. Noi utilizziamo il software Venere. Adesso con Venere abbiamo tutto più organizzato, tutto più sotto controllo anche dal punto di vista del magazzino, dal punto di vista anche delle promozioni. Tutte le schede delle clienti, le anamnesi. È fantastico da quel punto di vista lì. È venuto a trovarmi Stefano, abbiamo fatto due risate tra una cosa e l'altra perché comunque è una persona piacevolissima ed è stato molto chiaro e abbiamo concluso subito ed è stato un servizio efficientissimo, veloci. È arrivato tutto molto velocemente. Rispondono alle esigenze quando abbiamo bisogno di fare dei cambiamenti perché ogni istituto ha le sue necessità e sono molto contenta. I dati delle clienti, anche i trattamenti, soprattutto il magazzino che è la cosa tra virgolette più importante perché vabbè, uno dice col cartaceo le schede dei clienti lo puoi anche fare. Però per quanto riguarda il magazzino diventava un po' più complicato anche i corrispettivi, queste cose. Invece con questo gestionale veramente ci troviamo da Dio e poi soprattutto sono simpatici loro. E sono sempre disponibili comunque. È un programma completo, quindi ti dà veramente tutto, tutto, tutto in tempi reali. Ecco l'informazione sms che può essere un compleanno, quindi tutto, quindi lo vedo completo, mi piace. Un braccio destro per il lavoro perché comunque ci aiuta tantissimo anche nell'invio del mail, di messaggi, nel calcolo del tempo. Nel senso che riusciamo ad organizzarci meglio con gli appuntamenti, ma anche con le schede clienti, con tutto ciò che riguarda loro, quindi le diagnosi, schede e anche l'accesso facile ai loro contatti. riusciamo a mandare messaggi promozionali in pochi minuti, che prima era difficilissima, una cosa molto complicata. perché un gestionale può essere gestionale di serie A e di serie Z. Venere credo che sia un gestionale di serie A proprio perché è affine a tutte le nostre esigenze. Devo dire che non ho neanche fatto una gran fatica, nonostante non avessi mai utilizzato prima un software gestionale, a imparare ad utilizzare diversi aspetti, premettendo che poi si fa anche un pochino per volta. Oggi ho scoperto Venere, quindi.